Un mantello per volare via verso la libertà Un mantello e potrò sconfiggere il mare Un mantello Bene, grazie vicepreside Grodd per la sua straordinaria dimostrazione della forza dei primati Andiamo avanti, ora ci alleneremo su una cosa Ehi! Mettetemi giù! Di nuovo l'esercizio sul professore rapito? Wow, che spettacolo! Avete visto che costumi stavolta? Coach Wildcat, possiamo iniziare l'esercitazione? Scusatemi, cosa devo fare? Siete pronti? Non ho sentito il segnale Mio Dio, quelli erano gorilla veri! Hanno rapito il vicepreside Grodd! Prendeteli! Ho capito, fingiamo che non sia un'esercitazione Dobbiamo usare l'artiglieria pesante, ragazzi! E vai! Gli farò assaggiare i pugni di questo scimmione! Gorilla Grodd! Siamo venuti a liberarla e a portarla a casa Così potrà riprendere il posto che le spetta come sovrano di Gorilla City Fermatevi! Lasciatemi andare! Ehi, brutti bestioni! Mettete subito giù quei pollici opponibili dal nostro vicepreside! Vicepreside, hai detto? Compiere cattive azioni non mi interessa più ormai Questi supereroi gli hanno fatto il lavaggio del cervello! Facciuppateli! Nessuno può trattare male il vicepreside Grodd! Anche se mi ha messo in punizione duecentododici volte quest'anno non vuol dire che... In effetti potete trattarla un fa male! Harley! Ok! Ahi, a quanto pare i Gorilla non sono abituati alle temperature rigide! Bella battuta, Frost! Questa sì che è una frequenza! Sono qui! Sono qui! Ah ah, mancato! Ah ah! Ora sono qui! Ah 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 ah! Prova a prendermi! Siamo qui! Oh ah ah! Andiamo! Ora che tutti sono distratto! Ti ho detto di lasciarmi! Dovete ascoltarmi! Dovete ascoltarmi! Dovete ascoltarmi! Agli ordini, capo? Nessuno mi ha fatto il lavaggio del cervello e non ho bisogno di essere salvato! Ma allora perché non siete più tornato a Gorilla City? Per me era imbarazzante! Perché voi avete voglia di conquistare Metropolis! Mentre quelle cose a me non interessano più! Beh, non dobbiamo conquistare qualcosa per forza! Possiamo uscire insieme e basta! Sentiamo la sua mancanza! Oh, sai, anche voi mi mancate molto ragazzi! E sai che ti dico? Ci sarò di sicuro al prossimo Festival del Bambù! Che ne dici? Ehi! Che avete da guardare? Siete tutti e cinque in punizione! Che cosa? Non è giusto però! No, no! Non un'altra volta! Hai visto? So ancora come divertirmi! Un mantello! Un mantello! Per volare via verso l'area invernale! Un mantello! E potrò sconfiggere il mare! Un mantello! Destino Super Kindergarten!